16 marzo sono a Neoneli in provincia di Oristano alla cantina Bentuluna qui è un posto veramente della Sardegna autentica un posto dove si può assaporare un vino che mi verrebbe da dire vino primordiale un vino che affonda proprio le radici nella tradizione sarda e capito qui dopo una giornata a Cagliari dove abbiamo trattato di come le tecnologie possono impattare e cambiare la vita delle persone peccato abbiamo detto che molto spesso troppe persone proprio quelle che ne hanno più bisogno le tecnologie che migliorerebbero la loro vita queste tecnologie non le conoscono e qui alla cantina ancora una volta si può pensare come il vino si può fare con metodi antichi con metodi tradizionali oppure pur rispettando la tradizione usare le nuove tecnologie per migliorare la maniera di produrre fare meno fatica e ottenere lo stesso dei risultati che se rispettano la tradizione possono alleviare le fatiche e nello stesso tempo migliorare anche la qualità del prodotto Bentuluna è una cantina che è legata al cantina del castello di Cigognola nel pavese e proprio lì dove abbiamo conosciuto i loro vini e grazie alla bontà soprattutto degli spumanti da Pinot Nero del castello di Cigognola in questo viaggio sardo siamo capitati per scoprire la terra meravigliosa di Sardegna e i vini che in questa terra vengono prodotti con la sapienza, l'arte e soprattutto la passione delle persone che lavorano a Bentuluna di Sardegna e i vini che lavorano a Bentuluna di Sardegna e i vini che lavorano a Bentuluna